20.000 euro il contributo che Eurocons ed Eurofidi hanno devoluto ai Lions del distretto Torino Nord Piemonte per l'acquisto di un nuovo pierino occhialino, il pulmino attrezzato per l'esame gratuito della vista per bambini dai 5 agli 8 anni. Quest'anno abbiamo deciso di diminuire gli omaggi, di tagliare alcuni costi che avevamo in occasione delle feste natalizie e in un momento difficile abbiamo pensato di devolvere delle risorse, 20.000 euro per sostenere un progetto significativo nel settore della prevenzione sanitaria che si svolgerà su un ampio territorio del Piemonte e tutta la Valle d'Aosta e quindi direi un progetto rivolto ai più piccoli e quindi una particolare attenzione da parte di Eurocons ed Eurofidi alla solidarietà. Il servizio itinerante screening della vista per bambini organizzato dai Lions coinvolge dal 2007 una cinquantina di volontari tra cui anche medici oculisti e ottici nella prevenzione, correzione, cura e recupero di handicap visivi. Proprio la lotta alle malattie degli occhi è una delle più importanti attività dei Lions, una delle più vaste associazioni di volontariato al mondo diffuso in 209 paesi e con 1.400.000 iscritti in tutto il mondo. I Lions sono chiamati i cavalieri dei non vedenti perché è proprio uno dei problemi che sono la base della nostra attività perché nella prima convention che si è svolta in America dopo il 1917, non mi chieda la data perché non me la ricordo, ma sicuramente dopo il 1917 che è l'anno di fondazione del Lions Club, si è presentata alla convention internazionale una signora non vedente che si chiamava Ellen Keller che ha chiesto proprio ai Lions di farsi promotori per la risoluzione e la prevenzione e la risoluzione dei problemi legati alla vista. Una curiosità che forse non tanti sanno è che il bastone bianco che fino a qualche anno fa e che ancora adesso si usa, che usano i non vedenti, è stato inventato dai Lions. La vostra attività prosegue durante tutto il corso dell'anno? Assolutamente sì ed è un'attività variegata perché sicuramente come dicevamo i problemi legati alla vista è la nostra principale attività ma abbiamo anche molte altre attività. In questo momento abbiamo a livello mondiale una campagna per debellare completamente il morbillo, quindi facendo vaccinazioni a tutti i bambini del terzo mondo per evitare che il morbillo crei grossi problemi perché il morbillo può portare anche alla morte. Aiutiamo sempre nell'ambito della vista, abbiamo costruito, costruiamo degli ospedali in India, facciamo operazioni di cataratta, qui parliamo di milioni di interventi, mi sembra 7 milioni di interventi di cataratta con due campagne che abbiamo sviluppato negli anni passati che erano denominate Sight First e Sight First 2, abbiamo debellato praticamente la cecità da fiume che colpisce soprattutto nel terzo mondo gli abitanti che vivono vicino ai fiumi, ad esempio in Sud America, che era un problema che portava non solo alla cecità ma addirittura alla morte e noi siamo riusciti a debellarlo. Poi ci sono tante tante altre iniziative perché comunque la nostra attività è proprio quella di aiutare chi ne ha bisogno. Ci siamo rivolti negli anni passati molto nei paesi emergenti, oggi queste difficoltà le riscontriamo anche sul nostro territorio purtroppo e quindi la nostra attenzione si rivolge anche in modo particolare ai bisogni della collettività che vive a nostro stretto contatto. I Lions sono impegnati tutto l'anno nel servizio di raccolta di occhiali usati da inviare all'estero a supporto della rete di solidarietà internazionale Vision 2020 per eliminare la cecità evitabile e curabile. I centri di raccolta sono 18 in tutto il mondo, tre in Europa, uno in Italia, a Chivasso, che presto diventerà un centro permanente di diagnosi oculistica gratuita. I centri Lions di riciclaggio degli occhiali, quindi raccolta e riciclaggio degli occhiali, sono 18 nel mondo, tre solo in Europa, Francia, Spagna e Italia. Quello in Italia è qui a Chivasso vicino a noi e raccoglie tutti gli occhiali di tutta Italia. I Lions Club raccolgono nelle piazze, nei negozi, dagli ottici, gli occhiali in tutta Italia e li spediscono a Chivasso. L'anno scorso ne abbiamo raccolti 460.000 paia, quindi un numero enorme. Cosa facciamo noi? Noi li laviamo, prima li selezioniamo perché ci sono occhiali rotti, li selezioniamo, li laviamo, li cataloghiamo, li sterilizziamo e li dividiamo maschio, femmina e bambina. Li cataloghiamo tutti perché poi noi andremo a consegnare, quindi registriamo su un computer l'archivio degli occhiali che abbiamo, il magazzino degli occhiali che abbiamo. Perché quando andiamo a consegnarli in 207 paesi del mondo, li consegniamo con visita oculistica, li consegniamo gratuitamente e li consegniamo, consegniamo l'occhiale giusto alla persona giusta perché noi sappiamo esattamente dov'è l'occhiale che quella persona ha bisogno. Il centro di Chivasso ha un futuro davanti a sé, ovvero esiste un progetto per far arrivare a Chivasso un centro permanente, è vero? Sì, quest'anno il governatore Bobbio ha pensato di creare un lavoro comune con tutti i club del distretto e l'idea è stata quella di rivolgersi anche al nostro territorio perché purtroppo qui abbiamo nuove e vecchie povertà e quindi abbiamo anche qui bisogno di interventi importanti di prevenzione e di cura, cura nel senso di bagarre di occhiali. Per cui è nato questo progetto che si è chiamato Centro per la Vista che ha due fasi una fase di creazione di un centro di visite oculistiche gratuite rivolte a chi non può averle in altre occasioni e che siano però anche delle centri di prevenzione per il glaucomo, per la maculopatia per cui visite, così, delle screening aperti a tutti. e questo centro sarà a Chivasso, però contemporaneamente ci sarà questo ambulatorio mobile per la vista specializzato principalmente per i bambini ma con l'apertura a visite sul territorio che i Lion organizzeranno su ogni territorio. Il pulmino, quindi Pierino e l'occhialino, che viene rinnovato grazie al contributo di Euroconse e Eurofidi quindi contiene anche dei macchinari molto sofisticati. Sì, contiene questo macchinario specialistico per la visita di bambini in età prescolare molto interessante, molto caro, anche molto sofisticato e che è proprio un grande mezzo di prevenzione della vista anche perché se non ci sono problemi facilmente riscontrabili le famiglie non portano il bambino piccolo dall'oculista. Ecco, se i Lions fanno nelle scuole degli screening per cui alle volte, purtroppo, ma anche per fortuna troviamo dei problemi in qualche bambino e si risolvono queste prevenzioni, quindi si risolvono in maniera più facile che non ritrovarseli dopo qualche anno. Questo progetto si inserisce nelle iniziative di solidarietà sviluppate da Euroconse ed Eurofidi come quella a favore delle imprese nelle zone emiliane terremotate e nei territori alluvionati in Toscana e Liguria. Beh, una società certamente che fa business, una società che si muove nel sistema delle piccole e medie imprese ma una società che quando può e quando è nelle condizioni cerca anche di andare incontro a chi magari ha più bisogno. Abbiamo fatto così quando c'è stato il terremoto in Emilia, cercando di dare delle risposte concrete alle aziende che erano state colpite dal sisma. Abbiamo sottoscritto un protocollo con la Fondazione Michelin Sviluppo per cercare non solo di sostenere le aziende ma anche creare nuovi posti di lavoro e questo è un'iniziativa ancora più di solidarietà perché è un contributo che viene dato per sostenere un grande progetto che sarà un progetto itinerante ma io penso che è anche oggi magari l'inizio di una collaborazione col distretto, con il sistema Lions. Ricordiamo che poi nei prossimi anni guarderemo anche altri territori perché noi siamo presenti su tutto il territorio nazionale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.